La società e il comune e i tifosi? Sicuramente la società a livello con i tifosi e con il comune non aveva intrapreso un buon rapporto. Io avevo cercato piano piano di poter riuscire a questo rapporto sia con la defoseria che con il comune, però poi ho visto che i problemi erano altrove.